Benvenuti cari amici, benvenuti di nuovo qui sul mio canale. Continuiamo oggi con l'analisi dell'introduzione di Fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty e il video di oggi è in dedicato interamente intitolato Il sistema Io, l'altro, le cose. Buona visione! Doverosa avvertenza, prima di continuare con la visione di questo video vi invito davvero caldamente a recuperare il video precedente in cui parlavamo dell'attenzione e della memoria in Merleau-Ponty. È importante, lo doveste sempre fare secondo me per non perdere il filo di video che faccio, quindi andare all'inizio delle playlist e seguire il filo logico, che poi spesso è il filo che segue il libro, il grande capolavoro che analizzo sul momento, per Merleau-Ponty è ancora più importante. È ancora più importante perché è un autore complicato, è un autore difficile, è un autore che ci mette in un modo di pensare nuovo, diverso dal quotidiano ed è un autore che quindi davvero rischia di far perdere completamente il filo logico e di entrare in confusione. Quindi mi invito a recuperarlo, comunque richiamerò in questo video alcuni concetti e spessi l'altra volta. Allora, perché ho voluto chiamare questo video il sistema Io, l'altro, le cose? Siamo nell'introduzione di Fenomenologia della percezione e soprattutto nella seconda parte dell'introduzione che è molto lunga, molto corposa. L'altra volta abbiamo parlato appunto di attenzione, ecco è caduta anche la penna, di attenzione e di memoria. L'attenzione, Merleau-Ponty, la recepisce con un significato del tutto diverso rispetto a quello degli empiristi e degli intellettualisti e infatti all'inizio di questa seconda parte riprende proprio le posizioni dell'empirismo e dell'intellettualismo. Allora, come funzionano l'empirismo e quello che lui chiama intellettualismo, no? Che potrebbe essere razionalismo, tranquillamente, eccetera. Funzionano in modo molto simile ma allo stesso tempo partono da presupposti diversissimi. Io ne ho parlato anche nel mio volume Saggi Logico-Fenomenologici, c'è tutta un'intera sezione dedicata proprio alle differenze tra Kantismo, per esempio, e l'empirismo di Hume. Perché? Perché l'empirista crede che vengano prima le impressioni. Crede che esistano le impressioni, che tra l'altro queste impressioni sono date da qualità identificabili in modo singolare, quindi per esempio il colore rosso, la forma ovale, eccetera, cosa che abbiamo detto, Merleau-Ponty, critica, vi ripeto, recuperate il video precedente. E quindi queste impressioni poi fanno scaturire delle idee. Quindi le idee sono ciò che corrispondono alle impressioni, le idee vengono poi mantenute nella memoria, sbiadiscono e la memoria, infatti, i ricordi sono fatti da idee sbiadite, che a loro volta già sono impressioni sbiadite. Quindi le idee sono semplicemente il contenuto sbiadito della coscienza che ha ricavato delle impressioni. Qual è la difficoltà dell'approccio empirista? La difficoltà è quello di non prevedere in alcun modo le associazioni, no? Se è vero che un oggetto potrebbe benissimo nascere dal mondo e poi essere immagazzinato nella coscienza, l'associazione tra gli oggetti da dove nasce, non è visibile, non è percepibile, per esempio la forza, no? Di gravità, per esempio, facciamo questo esempio, non è percepibile, allora esiste una simile cosa, esistono le associazioni, con cosa sono tenuti insieme gli oggetti? Questo era il limite dell'emperismo. Il limite dell'intellettualismo qual è? L'intellettualista crede che i principi organizzativi delle cose vengono dalla coscienza. Questa coscienza può benissimo prevedere anche dei messi associativi, se vi ricordate Kant, Kant prevedeva delle categorie di diverso tipo che servivano a essere fuse, infuse, diciamo più che fuse, nella immaginazione trascendentale e servivano a riorganizzare i dati di un oggetto. Senza questo pacchetto a disposizione dell'umano, l'oggetto era inconoscibile, era non percepibile, eccetera. L'intellettualista e l'empirista fanno un errore, dice Merleau-Ponty, partono quindi da presupposti diversi. L'empirista chiede che le idee derivano dalle impressioni, l'intellettualista che invece le impressioni siano riorganizzate dalle idee, quindi vedete che percorrono la stessa strada ma partendo da uno da A e uno da B, dice fanno lo stesso errore perché entrambi aderiscono a quella che li chiama l'ipotesi di costanza. Questo è molto importante perché l'ipotesi di costanza è un'ipotesi, quindi è un qualcosa che viene prima ancora di qualsiasi analisi filosofica, scientifica, percettiva e che vede nel mondo oggettivo presente qualcosa di reale e qualcosa appunto di costante. Quindi l'ipotesi di costanza crede che gli oggetti mantengano al loro interno una certa costanza che li permetta di stare in modo indipendente con la loro bella figura delineata, con le loro caratteristiche estrapolabili su uno sfondo di cose sfumate, di uno sfondo impercettivo. E questo di nuovo è il tema dell'attenzione, allora l'attenzione che secondo l'intellettualismo e l'empirismo prende l'oggetto, lo preleva, lo porta davanti agli occhi, lo porta alla luce della coscienza e quindi riesce a delucidarlo tutto per intero, rende possibile la conoscenza perfetta, se vi ricordate le idee di Cartesi o Clare et Distincte, mentre invece il resto del mondo è un qualcosa che viene semplicemente messo da parte dal campo percettivo e questo creava i paramiti, se vi ricordate abbiamo parlato nel video scorso, quindi tutte quelle cose che vengono fatte rientrare nel mitologico e vengono dimenticate dall'empirismo e dall'intellettualismo che però sono importantissimi per costituire il vero retroterra della percezione. Ecco perché, dice Belloponti, il benerken o il take notice, il notare, entrambe le espressioni voglio dire notare, è un potere generale o incondizionato, nel senso che in ogni momento può dirigersi verso tutti i contenuti di coscienza. Questa attenzione per l'empirismo è sterile, non è mai interessata, perché sono le impressioni che vengono alla coscienza, più che alla coscienza che illumina le impressioni, no? Se vi ricordate, se avete letto il saggio sulla natura umana di Hume, se non l'avete fatto vi invito a leggere, ne parleremo ovviamente anche di questo grande capolavoro sul canale, sono le impressioni che vanno a colpire letteralmente il corpo, da qui il vero significato, secondo l'uomo di affezione corporea, quindi di sensibilità, e facendo questo poi causano, creano delle idee. Quindi funziona proprio così il meccanismo, non è una coscienza che decide dove dirigesse, eccetera. L'intellettualismo prevede invece che ci sia una coscienza, io penso Cantiano per esempio, che vada a dirigersi sulle cose, ma anche Husserl la vedeva così, ecco perché Belloponti critica anche Husserl in questa introduzione, va a dirigersi sulle cose illuminandole e quindi facendo le proprie. Quindi dice, riflette Merleau-Ponti, che mentre la coscienza empirica, ed empirista più che empirica, costituisce niente, non costituisce nulla perché ha poco valore, nell'intellettualismo la coscienza è tutto, io penso in Cante è tutto letteralmente, quindi costituisce tutto, ha un grosso potere, però è un potere astratto, inefficace, perché non ha nulla da fare. La maggior chiarezza dell'atto di attenzione non inaugura un rapporto nuovo. Ecco cosa intende lui con non ha nulla da fare. La coscienza è vero, dice Merleau-Ponti, che nell'intellettualismo si dirige verso l'oggetto, però non c'è novità, perché se tu hai già tutti gli schemi mentali prefissati, dati come a priori campiani, quindi si tratta solo di stabilire se esiste un giudizio informativo, quindi sintetico, ma a priori, cioè universale, è sempre valido, beh, e tu hai tutto già nella tua testa, letteralmente, il mondo come può colpirti con cose nuove, come può nascere la sorpresa, per esempio, e quindi da un lato abbiamo nell'empirismo un'attenzione sterile, che non ha nulla da fare letteralmente, dell'intellettualismo abbiamo un'attenzione invece iperstimolata, che però alla fine è inefficace, è qualcosa di sbiadito, che serve a poco. Questa cosa delle occasioni nuove è importante perché, dice Mello Ponti, all'interno di un campo percettivo non si tratta di dominare, qui ci riporta il termine tedesco, Jüberschauen, dominare gli oggetti, non si tratta di quello, come pensa Kant, come in fondo pensano anche gli empiristi, come pensa la scienza, ma si tratta di far emergere senso nuovo a ogni nuova percezione. Abbiamo già parlato di questa cosa nel video precedente e ci fa un esempio di psicologia infantile, Mello Ponti, gli psicologi pensavano che le errate percezioni da parte dei bambini dei colori fossero frutto dell'assenza dei nomi da parte dei bambini per designare quei colori. Questo è molto freghiano come concetto, se mi manca il nome per designare un oggetto, io confondo l'oggetto con un altro. All'inizio dice Mello Ponti, si pensava così. Invece gli studi psicologici attuali hanno dimostrato che il mondo dei colori è una formazione seconda, dice lui, e ve lo leggo testualmente, fondata su una serie di distinzioni fisionomiche, quella delle tinte calde e fredde, del colorato e del non colorato, eccetera. Quindi viene prima questo sfondo, questo retroterra di sensazioni fisionomiche, di grandi distinguo tra il mondo colorato e non colorato, eccetera, e poi si forma l'idea del colore a cui si associa un nome. Ecco perché il mondo, il campo percettivo che torna di nuovo è un qualcosa che ci accompagna sempre all'interno delle percezioni ed ecco perché fare attenzione non è soltanto illuminare dei dati preesistenti, e questo è importante il passaggio perciò l'ho segnato, ma anche realizzare in essi un'articolazione nuova prendendoli per figure. E qui vi faccio vedere l'altra illusione, l'altra volta abbiamo visto l'illusione di Müller-Layer, oggi vediamo un'illusione molto bella che è quella di Solner, che è questa qui. L'illusione di Solner, che tipo di illusione è? Allora qua vedete che ci sono delle linee, ve lo dico io, che sono delle linee parallele, che però non sembrano parallele. Perché? Perché ci sono dei segmentini riportati ora in un verso, ora in un altro, e questo come nell'illusione di Müller-Layer ci dà l'idea che abbiamo a che fare con delle rette diverse. E la psicologia, torniamo sempre lì, come vi ho detto l'altra volta, ci dice, sbagli tu a vederle come rette diverse. Te lo dico io che nel mondo oggettivo, che nel mondo geometrico, che nel mondo delle misure, eccetera, esiste l'oggettività del parallelismo. Quelle rette ti sembrano diverse, ma in realtà sono parallele. Belloponti ci dice, attenzione, usciamo da questo meccanismo in cui si prevede già un senso assegnato da assiomi scientifici, matematici, geometrici al mondo, facciamo epoché trascendentale, epoché fenomenologica, e rendiamoci conto che l'attenzione non è un'associazione di immagini o il ritorno di un pensiero padrone dei soggetti, ma è la costruzione attiva di un oggetto nuovo, che esplicita e tematizza ciò che prima era offerto sulla titolo indeterminato. Quando io osservo l'illusione di Zollner o di Müller-Layer, non sto riconoscendo in modo errato un oggetto che doveva essere in un altro modo, no, sto dando senso nuovo alla percezione, sto creando un qualcosa di nuovo a partire da un orizzonte di indeterminatezza. Prima che un predicato, un giudizio sia possibile, io questo l'ho anticipato l'altra volta, deve costruirsi la percezione. Nell'esempio dell'illusione di Zollner, l'intellettualismo mi direbbe che l'errore sta nel far intervenire le linee ausiliarie, cioè l'errore mi direbbe l'intellettualista, guarda, tu sbagli a fare intervenire quelle linee messe per così e per cos'ha che ti ingannano sul parallelismo, no? Ma perché mi inganno su questa prescrizione? La prescrizione ci dice no, quelle rette sono parallele e sei tu che ti sei confuso facendo intervenire le linee ausiliarie. Perché mi inganno sulla prescrizione? Dice Melo Ponti, bisognerebbe semplicemente ammettere che ricevendo le linee ausiliarie, le principali hanno smesso di essere parallele, che hanno perduto quel senso per assumerle un altro, che le linee secondarie introducono un significato nuovo che non può essere distaccato. È questa trasformazione del fenomeno che motiva giudizio falso e dietro esso. Quindi dice Melo Ponti, noi possiamo a livello scientifico stabilire un giudizio, ma questo giudizio è retto dalla percezione che sta dietro. Non è che esiste una prescrizione di parallelismo che io infrango andandomi a illudere vedendo queste rette come non parallele, no, io sto costruendo un senso nuovo perché in effetti le rette, se io le vedo in quel modo, dice Melo Ponti, non sono più parallele. Come la retta di Müller-Layer, il segmento di Müller-Layer, se li vedo in quel modo con una freccia da una parte di là, quindi mi sembrano segmenti di diversa lunghezza, ha ragione la mia percezione. In un certo senso la verità accompagna sempre la percezione, io devo fidare della mia percezione perché anche l'illusione è una verità, è una grande verità, ci dice Melo Ponti, che ripeto in questa introduzione ci parla e ci fa riflettere delle illusioni. Il giudizio cosa fa? Certifica un'esperienza. C'è un punto dove lo dice appunto, lo vediamo se lo ritrovo, il giudizio è un fatto che mette un bollo su un'esperienza. È un giudizio vero se l'esperienza corrisponde a quella che normalmente viene prescritta, no, come dovrebbe essere, quindi esperienza di visioni dirette parallele. È un giudizio falso se invece non vi corrisponde, però mette in bollo su un'esperienza ed è questa esperienza, questa percezione del giudizio che anima sempre la vita del giudizio. Il sentire, dice Melo Ponti, altro bellissimo passo, è un valore vitale, coglie la vita nel suo significato per noi, per quella massa presente che è il nostro corpo, sentite, massa pesante che è il nostro corpo e quindi comporta sempre riferimento a un corpo. Il sentire è quella comunicazione familiare con il mondo che ce lo rende presente come luogo familiare della nostra vita. Ecco perché noi non dobbiamo avere paura delle nostre percezioni, dobbiamo sentirci appartenenti a questo mondo, il nostro corpo non ha una, lo diremo di nuovo, ripeto, lo affronteremo dopo nel prossimo video, nello specifico, non ha una figura determinata. Il nostro corpo si confonde con la figura del mondo, con le figure degli altri oggetti del mondo. Ecco perché Melo Ponti dà valore al corpo. Tutto questa parte serve a dare valore a quello che dirà dopo a proposito del corpo. Per secoli vi rielgo ancora alcuni passi per chiarire meglio. La scienza e la filosofia sono state sorrette dalla fede originaria nella percezione. La percezione sbocca su cose, si orienta verso una verità in sé in cui si trova la ragione di tutte le apparenze. Questo hanno sempre creduto e questo abbiamo detto sbagliavuto. La scienza definiva uno stato teorico dei corpi che non soggiacciono all'azione di nessuna forza e la nozione di spazio geometrico è indifferente ai contenuti. Di uno spostamento puro fornivano ai fenomeni un contesto di esistenza inerte. Quindi non si dava alla volontà dell'uomo, e questa è una critica molto ionasiana, attraverso la visione scientifica. Non si dà alla volontà dell'uomo la giusta dignità, il giusto valore, la giusta posizione. Perché quando io muovo un braccio, ci dice Jonas, diciamo estendendo ancora il ragionamento alla volontà umana, anche il corpo proprio, quando io muovo un braccio, non lo faccio in virtù di uno stimolo causale dovuto a meccanismi fisiologici, neurofisiologici. Lo faccio perché io sono una coscienza che possiede un corpo, il corpo è pesante, il corpo è radicato in un mondo di cose e sono io che scelgo di interagire con questo mondo di cose. Quindi se vogliamo c'è lo spirito dietro al movimento e questa cosa la pensava anche Jonas. Dove dedicare un video al parallelismo Taglionas e Melo Pontini. E arriviamo quindi all'oggetto di video di oggi che è la parte finale, il sistema io, l'altro, le cose. I fenomeni, secondo Melo Pontini, sono uno strato di esperienza vivente attraverso cui l'altro e le cose ci sono originariamente dati. Questo è il sistema io, l'altro, le cose. Non esistono gli oggetti che emergono tramite al notare, al take notice, al be merken, che emergono alla coscienza dal mondo perché io mi dirigo verso essi con l'attenzione. Non esiste neanche l'attenzione. Se vi ricordate, l'abbiamo detto lo scorso video, l'attenzione è un costrutto che serve per tentare di giustificare una presunta oggettività del mondo. No, gli oggetti ci sono già dati. C'è un sistema che comprende me, le cose, e l'altro con la maiuscola inteso come l'altra coscienza, quindi l'altro soggetto, l'altro ego meditante, lo chiamiamo Melo Pontini. C'è questo sistema che è preliminare a qualsiasi percezione, che accompagna a qualsiasi percezione, che si sfuma in qualsiasi percezione. Quando io vado a percepire un oggetto, questo oggetto è costantemente legato al sistema io, l'altro, le cose. E il sistema io, l'altro, le cose, che potremmo chiamare benissimo l'essere ed è gheriano, costituisce il campo percettivo, lo spettacolo del mondo, il campo fenomenico, eccetera. È sempre sotto, è sempre dietro. Per farvelo capire l'importanza di questo sistema io, l'altro, le cose. Pensate a un'immagine, una fotografia. Voi avete in casa una fotografia di voi alle vacanze. E siete voi insieme alla famiglia e la fotografia ovviamente viene a un'inquadratura. Quindi inquadra voi, inquadra la famiglia, un po' di sfondo, eccetera. Sotto ai vostri piedi, quel giorno in cui avete scattato la foto, c'era un mondo che fluiva, c'era un mondo che continuava in modo indefinito, che legava i passanti che erano vicino a voi, che stavano guardando lo stesso paesaggio di fronte a cui eravate, che lega magari la funivia che è servita per portarvi fino a quel paesaggio, se siete in montagna, oppure il treno o la macchina con cui siete arrivati in vacanza. Quindi c'è un mondo, c'è un sistema perennemente collegato, il sistema io, l'altro, alle cose, che sta sempre davanti, sopra, dietro, di fianco alla percezione, l'accompagna sempre e l'accompagna non consentendo di effettuare l'operazione geometrica di rendere gli enti, i corpi, come individualità accumulabili. Non è fatto questo sistema di figure sagomate, delineate perfettamente, che possono essere analizzate, stapolate, eccetera. È un sistema vivente, è un sistema di vita che fluisce, che rifluisce attraverso il ricordo, che rifluisce attraverso la rappresentazione artistica, come la fotografia, e quindi è l'Ebenswelt nel senso vero del termine, mondo della vita, che si muove continuamente tra noi, l'atto e le cose. E questo è il messaggio più grande di derivazione husserliana che D'Amelio Ponti, che ha criticato Husser, perché secondo Husser l'atto intenzionale era un atto di attenzione anche verso un oggetto che era volto a estrapolarne proprio non una qualità determinata, ma estrapolarne l'essenza. Diceva Husserl che, ritorno alle cose stesse, voleva dire estrapolare l'essenza di un oggetto attraverso un atto percettivo. Poi nella sesta ricerca logica già Husserl ammette che questa essenza è indeterminata, essenza sfumata, però Husserl poi naufraga un po' verso l'intellettualismo, anche se leggete le idee verso la fine della sua produzione. E Melo Ponti prende le distanze proprio da questo. Fare filosofia così vuol dire fare una filosofia distante dalla scienza? Sicuramente sì. Vuol dire, scusate, andare contro la scienza? Non necessariamente. Vuol dire che la filosofia come metodo, come approccio, deve seguire una strada diversa da quella della scienza. Le scienze hanno la loro strada, la demarcazione soggetto-oggetto, mettere in risalto l'oggetto distrutto tramite l'attenzione e hanno i loro problemi, che sono quelli poi che li accomunano a empirismo, a intellettualismo, eccetera. La filosofia ha una strada diversa. Infatti, nella parte finale dell'introduzione, Melo Ponti riflette proprio sulla filosofia. Dobbiamo non solo insediarci in un atteggiamento riflessivo, dice lui, in un cogito inattaccabile, ma anche riflettere su questa riflessione. Non solo praticare la filosofia, ma renderci conto della trasformazione che essa reca con sé nello spettacolo del mondo e nella nostra esistenza. Fare filosofia non vuol dire possedere nozioni, non vuol dire trovare un'occupazione, vuol dire emergersi nella realtà del mondo e farci trasformare anche da questa realtà del mondo. Perché noi non siamo figura su uno sfondo. Noi siamo sistema, io l'altro le cose. Siamo tutti legati e questo flusso vitale è ciò che, una volta avvertito, è davvero in grado di avviare un processo di trasformazione. Con questo vi lascio, fatemi sapere cosa ne pensate. Se siete arrivati fino in fondo al video, scrivete notare. Oggi abbiamo parlato di attenzione di notare, scrivete notare. Vi ringrazio, fatemi domande se ne avete, fatemi sapere cosa ne pensate. Pollice in giù se vi è piaciuto, in giù se non vi è piaciuto, eccetera. Vi abbraccio, alla prossima, ciao. Ciao.